Vivere e raccontare, puntata numero 367, sono le 16 del 22 novembre 2022 dagli studi Aracne TV Pala Perri. In collegamento con noi Filippo Portera, musicista e compositore. Vivere e raccontare il formattiliato da Giacchino Onorati e Augusto Zucchi e oggi con Filippo Portera parleremo del suo nuovo audiolibro Metamorfosi. Buonasera. Buonasera. Salve. Quindi Metamorfosi è molto più che un semplice audiolibro. Quali sono le caratteristiche che lo rendono unico? Beh, la prima caratteristica è proprio la musica. Io sono un musicista e quindi ho composto le musiche, che quindi sono originali, proprio per l'audiolibro e specificatamente proprio per ogni racconto, perché l'audiolibro è formato da 16 racconti sulla mitologia greco-romana. Quindi la prima caratteristica fondamentale è la musica, che non è un semplice intermezzo fra una lettura e un'altra, ma che funge quasi da colonna sonora e in certi momenti anche da scenografia, perché ho interpretato anche questo tipo particolare di modo di audiolibro come se fosse una messiscena teatrale in realtà, dove la musica accompagna i passi del racconto e certe volte diventa anche scenografia. Le accompagna, diventa scenografia e può diventare anche un modo di esprimere musicale il racconto, il mito, la leggenda. E come mai ha chiamato i 16 racconti i magofonie? I magofonie perché è un termine intanto che non c'è nel vocabolario italiano, l'ho coniato io per dare l'idea a chi ascolterà del fenomeno che troverà ascoltando, perché a parte che avere un librettista come Ovidio già nobilita l'opera in maniera eccelsa, eccezionale. Il modo di concepire questo tipo di racconto e chiamarlo i magofonie ha queste caratteristiche, cioè la caratteristica principale è che uno ascoltando vede delle immagini, proprio si formano automaticamente senza problemi di soluzione, di continuità, perché appena comincia il racconto è come se noi nella nostra mente avessimo uno schermo su cui si proietta il racconto. Ecco perché li ho chiamati in magofonie, proprio perché danno immediatamente, naturalmente ognuno la vede e troverà la propria scenografia, è libera, ha libera interpretazione, ma ognuno che ascolta vede quello che sta ascoltando. Sì, e ovviamente i 15 libri della metamorfosi sono ricchissimi di miti, di leggende della cultura greco-romana, ma lei ha usato un criterio per scegliere i suoi miti e le leggende che ha usato? Certo, sì, io avvicinandomi per la prima volta alle metamorfosi di Ovidio mi sono trovato 15 libri da leggere, 15 libri da ridurre e poi adattare e quindi confesso che un istante ci ho pensato prima di iniziare questo lavoro che si preannungiava molto lungo, ma io purtroppo ha questo difetto, non ho lucidità all'inizio, per cui intraprendo il viaggio, qualsiasi esso sia, infatti questo è durato quattro anni, intraprendo il viaggio fino all'ultima scena, fino all'ultima nota. Io ho scelto questi miti, perché come ha detto lei, nelle metamorfosi di Ovidio ci sono veramente milioni di notizie, è una banca dati incredibile ed inesauribile quella di Ovidio. Io ho scelto quei miti e quelle leggende di ogni libro, ne ho scelto una, perché favorendo più quelli che sono ancora nel nostro vocabolario italiano, proprio per creare un ponte tra il passato e l'oggi, di modo da rendere più interessante anche l'ascolto. Per esempio ho scelto tra tanti miti narciso, il termine narcisista è ancora nel nostro vocabolario, funziona ed è abbastanza oggi frequentato, voglio dire. Comunque ho scelto pure la parola, il mito di Aracne, perché ancora oggi i ragni si chiamano Aracnidi, come ho scelto il mito di Icaro, no? Oppure quello di Eco. Sono tutte parole che sono ancora nel nostro vocabolario e in questo modo vengono approfondite, perché Ovidio ci racconta praticamente tutto, anche di Eco per esempio, ci racconta cos'era prima, aveva un corpo, poi innamoratasi di Narciso e non venuta ad essere considerata da Narciso come una possibile storia d'amore, Eco perde il corpo e diventa soltanto, non si vede più intanto e a quanto pare poeticamente Ovidio dice che è negli altri, si trova negli altri sperduti del mondo, la possiamo vedere, dice che è il suono che vive in lei, non la possiamo vedere ma la possiamo ancora ascoltare. Lei ha detto che sono stati necessari quattro anni per completare l'opera, ma come mai un tempo così lungo? Eh sì, intanto i sedici racconti delle metamorfosi di Ovidio, lei deve considerare, si deve considerare il fatto che le musiche essendo originali, io le ho prima scritte, composte, scritte, poi eseguite e registrate, per cui c'è una fase, lei consideri che tutta l'opera è formata da circa più di sei ore e trenta di registrato, di ascolto nell'opera, per cui ho dovuto comporre questa quantità di musica, scriverla, registrarla e questo ha portato via veramente un sacco di tempo, mare di tempo, tempo che poi si è aggiunto all'altro tempo che è quello della narrazione, perché questa voce recitante è la mia. Io ho provato, devo dire la verità, con altri attori, però non c'era quel concetto che io avevo già maturato nella mente come modo di esprimersi della voce, della voce narrante. Quindi a tutto il processo di composizione, di scrittura, di composizione, di registrazione si è aggiunta anche la lettura più volte dell'intera opera. l'ho riletta registrandola almeno tre volte, credo che siano tre le volte, tutta da capo a fondo, perché le prime registrazioni non mi piacevano di volta in volta e le miglioravo fino ad arrivare alla stesura definitiva che è quella che è stata pubblicata da RAC. La ringrazio per essere stata con noi, dottor Portera. Ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Vivere e Raccontare. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.